Tua ancora bersaglio delle polemiche. Qualche giorno fa è intervenuto anche il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, con un secco no all'intenzione del presidente di Tua, Giuliante, di chiudere la sede Teatina e accorparla a quella di Pescara. Attualmente il distretto si trova in un'area di proprietà della famiglia Gallucci e lì si trova dall'81. Quest'estate, dopo ben 39 anni di conduzione in interrotta del distretto Tua di Chieti Avedi-Pieligni, quindi nel sito di nostra proprietà, ci è stata notificata una raccomandata, quindi con una modalità assolutamente formale, anche troppo formale per i rapporti che sino ad allora vi erano stati, con cui ci è stato comunicato il recesso. I motivi che giustificano l'accorpamento dei distretti sono tutti nella questione della spending review e dell'amianto. Sì, perché secondo il presidente Giuliante la sede di Chieti metterebbe a rischio la salute dei dipendenti, ma finora non è stato tirato fuori alcun atto che lo dimostrerebbe. Inoltre, seppur così fosse, allora la domanda è perché dopo quasi 40 anni che si è in quella sede la questione è sorta soltanto adesso? Il problema delle polveri d'amianto nel distretto di Chieti non c'è assolutamente, perché seguendo correttamente la procedura del DM del 94 che prevede l'iscatolamento per i siti estesi, questa procedura è stata fatta nel lontano 96 a perfetta regola d'arte e da qualche giorno noi abbiamo ricevuto i risultati di ben due laboratori specializzati che hanno attestato la bonifica effettuata a perfetta regola d'arte e quindi la insussistenza del pericolo delle polveri di amianto. Per quanto riguarda poi il problema dei costi, la proprietà è disposta a ridurre notevolmente l'affitto per venire incontro alla mannaia della spending review, ovvero a realizzare un'altra serie di opere a costo zero che rendono il distretto più fruibile. In buona sostanza il problema dell'amianto non c'è, il problema dei costi eccessivamente gravosi per la conduzione non c'è. Il dubbio è che si voglia favorire qualche imprenditore perché non essendo disponibili a Chieti, aree del demanio, occorrerebbe affittare gli spazi di un altro privato e fare da capo i lavori per ospitare il parco macchine e le aree per i dipendenti. La proprietà si è quindi rivolta nuovamente al governatore Marsilio per sciogliere il nodo tramite il dialogo, se anche questa volta non dovessero giungere risposte, la questione si risolverà in tribunale. L'ultima parola spetterà alla magistratura, alla quale chiederemo anche conto del risarcimento dei danni perché le dichiarazioni sull'amianto hanno svilito ingiustamente il valore dell'immobile. In buona sostanza noi rivolgiamo un appello alla politica abruzzese affinché la città di Chieti non venga spogliata di questo importantissimo distretto, ma soprattutto affinché mi sia consentito il gioco di parole sia resa giustizia ad una profonda ingiustizia che noi abbiamo ricevuto.